E' sempre più esplosiva la situazione in Venezuela dove la carenza di medicinali è arrivata al 90% e anche curare patologie semplici diventa una questione di vita o di morte. Sono centinaia di migliaia i venezuelani che sono immigrati in altri stati. A questo si aggiunge la difficoltà di accedere a cibo e beni essenziali. Don Giuseppe Modena è stato per 50 anni nel paese sudamericano. Ieri un confratello venezuelano gli ha spiegato al telefono perché è così difficile per parte della popolazione superare il regime di Maduro. Mi ha mandato proprio ieri quattro punti. Dice, punto numero uno, ignoranza politica e culturale. Domanda alla gente che cos'è il comunismo latinoamericano, ma io credo che forse il 5% sa dire qualcosa. Allora non gli interessa quella roba lì, ma anche culturalmente non è che siano molto formati. Un paese che in 50 anni si è quadruplicato, come fai a mantenerlo con scuola e tutto? Non è semplice. E se non hai mezzi? E le altre ragioni? L'altra ragione è un popolo ammaestrato nella bocca perché il comunismo le dà da mangiare. Cioè li prendono dalla bocca. Cioè io ti do da mangiare, ti regalo questo, voti per me. E lo voto per loro. Adesso non succede neanche più questo perché la gente ha la fame comunque. Ma appunto quella gente lì che va per quello. Le altre non so come si arrangiano. Perché la maggior parte della gente che ha potuto è scappata via. Ricordo tutte le ambasciate, Italia, Spagna, Portogallo, tutti quelli che avevano qualche aggancio o per padri che erano venuti o parenti, persone che si erano sposate con Venezuelano, sono scappate via. Cioè tutta la gente che pensava è scappata via. La forza più grande che c'era in Venezuela, che era l'impresa petroliera, non so come è riuscito a farcela. Io ero là, è riuscito a farla fuori. Ha eliminato 20.000 persone che lavoravano nell'impresa e che erano l'elemento pensante dell'impresa. Ecco, quindi la popolazione sta vivendo una situazione difficilissima anche a livello sanitario. Ma i salesiani sono molto vicini alla popolazione in questo momento? Sono sempre stati, sono sempre stati. Per esempio lì a Caracas noi abbiamo una zona chiamata la Dolorita, che sarebbe la zona del dolore. Ci sono come 300.000 persone, sono sempre stati in mano i salesiani. e quindi lavorano lì. Ci sono anche un gruppo delle dame salesiane che è nata lì, che adesso si è sparsa a livello mondiale e che lavorano molto nel campo della salute fisica. Danno possibilità di andare con pochi soldi o gratis o quasi gratis. Anche a stassi denti, a fare le analisi. Secondo lei che possibilità ci sono che cambi in qualche modo questa situazione che già nel 2006, quando lei è andato via, comunque era già manifesta? Sì, per me non lo so. Non lo so. Anche questo lui mi ha detto, guarda, secondo me continuerà e riusciranno a imporre un sistema ancora più dittatoriale. Non lo so. Sabato a Verona si terrà una manifestazione promossa dalla comunità italo-venezuelana presente in città dalle 16 alle 18 in Piazza Bra per chiedere libertà, democrazia e aiuti umanitari. Il 20 maggio in Venezuela ci saranno le elezioni presidenziali.